Voi adesso mi dovete spiegare con quale coraggio, con quale cazzo di coraggio, da quale meandro del vostro buco del culo pieno di merda trovate il coraggio di venire qua sotto? E quando Pioli vince contro le squadre di serie binglese o vince 3 a 2 in rimontra contro squadre che lottano per la salvezza, con quale coraggio venite qua e mi dite chiedetegli scusa. Vergognati, finto tifoso. Io mi chiedo con quale cazzo di coraggio, con quale coraggio voi veniate qua a dire tali parole. Ragazzi, qui siamo davanti all'ennesima figura di merda. Voi non ve ne rendete conto. Non ve ne rendete conto e ringraziate il mercato fallimentare che tra un po' ve la rimette in piedi senza arte né parte. Pioli stasera, già dal decimo del primo tempo, non si meritava di portare a casa nemmeno mezzo punto da questa partita. Nemmeno mezzo. E voi, nonostante tutto, siete entrati in campo. Hai messo in campo i titolari e manca poco, te la riprendono pure. Ma no, perché esiste la giustizia nel calcio. E Pioli deve cominciare adesso a pagarle. Deve cominciare a pagarle per tutti i buchi di culo che ha avuto quest'anno. Genova, Udine, Frosinone. Una serie di buchi di culo enormi. Deve cominciare a pagare. E io spero che l'Atalante e la Lazio, ormai Ren, poveraccia, è andato. Ma io spero che l'Atalante e la Lazio gliene suonino. Ma gliene suonino. Quante il maiale gliene devono suonare. Partita che già dopo dieci minuti ho capito che non c'era niente da fare. Già, mi devi spiegare. L'allenatore dell'AC Milan. L'allenatore dell'AC Milan. Che poi se fosse per me, se ne sarebbe andato a fanculo. Vedi questo è lo scudetto? Bene, l'hai vinto, adesso vai a casa. Perché questo va a succedere. Questo. Ma siccome sono un coglione, siccome non capisco niente, siccome non apprezzo le cose che vengono fatte, le galassino dove vuole il padrone, va bene. Avete voluto continuare con Pioli? Va bene. Avete voluto continuare con Montella sei anni fa? Va bene. Cazzi vostri. Cazzi vostri. Cazzi vostri. Avete voluto continuare con Pioli? Perché questo non è quello che ci militiamo. Noi ci militiamo di peggio. Di peggio. L'allenatore dell'AC Milan. Che ha 220 partite. All'attivo 220 partite con l'allenatore dell'AC Milan. Mi viene solo il vomito a pensare che Pioli abbia fatto 220 partite sulla panchina del Milan. Con questo sulla spalla. dopo un 3-0 in Europa League contro una squadra che non ha mai tirato in porta, va a fare il turnover a Monza. Va a fare... No ragazzi, va a fare il turnover a Monza! Va a fare il turnover a Monza! E' una cosa che... Ha dell'assurdo. Ha dell'assurdo ragazzi. Va a fare il turnover a Monza? Intanto mandi in campo difensore centrale uno che ha tre mesi che è fuori per infortunio. Lo mandi in campo, lo fai giocare 90 minuti. Ti causa un calcio di rigore che è di una... Che è regalato è dir poco. Regalato da lui, eh. Non dall'arbitro. Da lui. Il sul 2-0 si fa saltare come un difensore di terza categoria. E te no, te lo lasci in campo 90 minuti! Certo. Cambi l'attacco? Mandando in campo un esterno destro che torna dalla Coppa d'Africa che... Fa più pena che altro? E speri di vincere! Io... Davvero, io vorrei ascoltare la tua intervista ma non ce la faccio ragazzi. Io non ce la faccio ascoltare. Io l'ascolto sempre in intervista di Pioli ma stasera veramente marrendo. Io ragazzi marrendo... Io non ce la faccio ascoltare l'intervista di Pioli stasera. Non ce la posso fare. Più forte di me. Non ce la posso fare. Rinuncio. Salto l'intervista di Pioli. Perché sapete cosa dirà Pioli stasera? Sapete cosa dirà quella testa di cazzo? Dirà che è l'espulsione che ha condizionato la partita. Perché lui dirà quello stasera. Perché dirà quello! Il Milan stasera nei primi due minuti va anche giocato bene. Bene. Se l'ha facciato due volte in l'era di rigore. Questo gli si rompe il portiere. Gli si rompe il portiere. E che succede? Perdi. Il portiere che forse l'ha giocato mezza partita in Serie A fa un rinvio e si prendono il calcio di rigore. Ragazzi io a parte otto rigori contro una stagione è una cosa che io penso in una storia di mia non sia mai capitata perché è veramente vergognosa. Ma noi vogliamo vedere i rigori che abbiamo regalato alle altre squadre. La gravità dei falli. Cioè ma vi rendete conto che se noi prendiamo... Quante partite sono in Serie A in un campionato? 380 partite in totali tra tutti gli scontri. Se noi guardiamo tutte e 380 le partite. Prendiamo i calci di rigore tranne quelli dati dal Milan alle altre squadre. Vi rendete conto che i falli che fanno i difensori del Milan in area di rigore non li fa nessun altro. Ma come cazzo ti viene in mente che l'attaccante che è pure seguito dal tuo compagno li fa lo sgambetto? Cioè tu lì vuoi dare rigore apposta. Tu lì vuoi dare rigore apposta perché tu lì te lo cerchi. Ne prendi uno, ne prendi due. Il secondo è ancora più vergognoso. E tu cosa fai? Tt, 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 tt. È un anno! È un anno che andiamo avanti a forza di tt, tt, di 85% di possesso palla partita. 3 ti rimporta e forse un gol. Se è questo per i tifosi squallidi. Per gli squallidi tifosi del Milan. Questo è giocare a calcio. È ciò che ci meritiamo. Sapete che vi dico? Pioli a vita. Pioli a vita. Perché questo vi meritate? 85% di possesso palla. Difensore centrocampista, centrocampista, difensore, difensore, trequartista, vede l'area, vede che la difesa è schierata perché certo quando fai possesso palla la difesa va al bar giustamente. Torna dietro il portiere e il portiere ricomincia. Questo è il gioco del Milan, ragazzi! Questo è! Questi giocano tutti gli altri, giocano tutti dietro. Ovviamente, apro e chiudo parentesi, quando Pioli incontrano la difesa a te non ci capisce un cazzo e sta sera è una conferma. Si chiudono dietro, il Milan si alza, questi fanno il contropiede e il suo contropiede prende sistematicamente gol. Sempre! Prendi sempre gol! Sempre! Sempre gol! Io, ragazzi, mi chiedo veramente... Dove... Dove certe persone abbiano lasciato la propria dignità. Perché, ok, è tutto, ma... Ma veramente qua la situazione... È irreparabile. È irreparabile. Dopo una figura di merda così allenatore deve andare in conferenza stampa e dare le dimissioni. Non c'è altra strada, ragazzi. Non c'è altra strada. Dopo una cosa così devi dare le dimissioni. Che questo è un 5-2 col Sassuolo con un gol in meno, eh. Perché tra 4 e 5 gol presi... Poca la differenza. Veramente poca. Ma adesso spero che l'Atalanta e la Lazio ce ne suonino. Ma proprio... Con le trombe, con i tromboni... Con le cornamuse, con i controfagotti... Io spero che l'Atalanta e la Lazio ci facciano la marcia su di noi. Poi, però... Leggo cose tipo... Eh... Abbiamo 5 punti in più dell'anno scorso. Madonna, ragazzi. Applauso! Abbiamo 5 punti in più dell'anno scorso. Wow! Peccato che con punti dell'anno scorso sareste in Champions League lo stesso. Solo quello. I ragazzi mi sono veramente rotti i coglioni. Io è... Una settimana fa ho fatto 3 anni su questa... In realtà io ho 7 anni che sono su YouTube. Però è 3 anni che ho cominciato a parlare di Milan in maniera molto... Molto costante. Di analizzare ogni partita. Di leggere commenti. Di... Gioie e dolori. Di tutto. Però ragazzi, arriviamo anche a un punto in cui ti stanchi. In cui ti rompi i coglioni. In cui... Veramente... Sedersi qua. E guardare certe cose. Diventa... Fastidioso. Lo fai contro voglia. E io vi giuro che questo momento... Si sta avvicinando. Non voglio che la gente poi venga... Se non me ne venga un cazzo... A me va bene lo stesso, sti cazzi. Voglio solo raccontare il mio punto di vista. Io mi sto rompendo i coglioni. In maniera anche piuttosto netta. E... Non mi sono mai nascosto davanti a niente. Ho fatto derby vinti, derby persi, sculetti vinti, sculetti persi, finali. Di tutto. L'Italia che non va al mondiale. Su questo canale abbiamo... Abbiamo vissuto ricotte di crude. Però c'è un limite. C'è un limite. E questo limite lo stiamo raggiungendo. Perché... È vero che la squadra è molto più importante di chi ne fa parte. Ma... È vero anche che voi state allontanando i tifosi dalla squadra. Voi state allontanando i tifosi dalla squadra. E... Giuro che il prossimo... Che viene qui... E mi dice... Il Milan può vincere l'Europa League. Tifoso del Milan, eh. Perché se no sei tifoso di qualcun altro... È uno sfottò qui. Non do neanche peso. Il tifoso del Milan, che seriamente, viene qui e mi dice... Il Milan può vincere l'Europa League. Per me sparisce dal canale. Sparisce. Evapora. Tu... Tu vai a Liverpool e gioca così. Poi se riparla. Buonanotte.